Buongiorno a tutti, ci troviamo nello stand di CNC a Fiera Didatta Firenze 2024, una nuova fantastica edizione della ormai consueta Fiera dedicata all'innovazione nel mondo dell'istruzione e della scuola. Quest'anno sono veramente tantissimi i dirigenti scolastici, i docenti ma anche gli studenti che stanno partecipando a questa nuova edizione della Fiera. Come al solito CNC si pone come azienda di innovazione che cerca di trovare le soluzioni migliori per cercare di portare sia una innovazione dal punto di vista tecnologico ma anche perché no di soluzioni e di metodologie all'interno della scuola italiana. Quest'anno il grande tema della Fiera è la musica e il suono, per questo CNC ha in partnership con strumentimusicali.net creato un'area all'interno dello stand con strumenti con amplificazione fatta in modo silent, in cuffia, in modo tale da non disturbare troppo chi ci sta accanto, in modo tale che gli studenti possano esprimere anche questo lato più creativo attraverso la musica e gli strumenti musicali. In più tantissimi workshop, quest'anno abbiamo portato un programma che conta più di 70 workshop, intelligenza artificiale, realtà virtuale ed aumentata ma anche rendicontazione e aiuto con la burocrazia che un po' sempre ci blocca, sono i temi cardini che continuano a essere presenti all'interno della scuola sulla scia del PNRR che stiamo ancora affrontando ma che non è soltanto l'unico tema su cui ci vogliamo concentrare. Le STEM fanno anche da padrone, abbiamo tantissime soluzioni presentate per la stampa 3D, per tutte le specificità legate al mondo dell'odontoiatria, abbiamo tantissime soluzioni che possono essere veramente possono portare il mondo del lavoro a essere contestualizzato all'interno di un ambito educativo e come al solito i nostri CCT, i nostri docenti che anche con l'aiuto dei nostri partner Google, Adobe e tantissimi altri provano a concretizzare quello che solitamente viene mostrato all'interno dei nostri tavoli in modo pratico con dei workshop e delle demo frame. Come al solito vi ringraziamo per essere stati presenti con noi e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.